Oggi il 7 dicembre 2018, il tempo è bello in qualche nuvola e qualche acquazzone, qua è la spazio, la destinazione è l'Atollo di Mnemba. Siamo appunti qua, il gruppo vacanze alternative, il nostro puma che avete creato io, ecco qui guarda, è lussuoso, veramente eccezionale, è veramente incredibile, è stupendo guarda, veramente è una vera, abbiamo l'aria condizionata, vediamo la nostra committiva fonda per la partenza a Tullo di Mnemba, certo eh ragazzi, ciao Giovanna, ciao Mino e tutti quanti fondi, certo, dai che andiamo, vai via via, forza. Siamo arrivati a bordo del balcone della Speranza. Mnemba, stai sbagliato, sono sbagliato, allora rifacciamo, rifaccio, rifaccio tutto, allora tesoro, qua siamo sul balcone della Speranza con le nostre amiche, qua le vediamo le nostre amiche, queste anche di amore, abbiamo Del Piero, Del Piero e Ulisano. Siamo molti, molti per partire in questa avventura che ci porterà Mnemba, abbiamo lo Stup Marketing che è posto qui, uno, due, tre, ciao! Pesato hai visto che sono qua nel lago, non è un lago, come questo, è un posto di Zanzibar, si chiama l'Occolo di Mnemba, amore guarda, siamo su un pezzo di una lingua di sabbia, praticamente in mezzo all'oceano atlantico, il Pacifico indiano. Questo è bellissimo! Il posto è il posto di gioia, guarda, la famiglia, tutto è stato completo, tutti noi siamo qui. Cos'è un bel selfie? Forza? Yeah! Mi fai messo allo sero indiano! In ruote con i squali, pesci pina e pesci palla! Siete bellissime! Perfetto, guarda che bello che siete, un sorriso! Avete capito il tesoro? Guarda, praticamente, per venire qua... L'obiettivo spoco vi faccio la firma, praticamente, siamo passati in qualsiasi venuta la polizia, si è chiesto 1000 euro per passare la sala, non va Lucina, poi non è la sala ma è l'acqua, il tuo miglio è il patrimonio di un'unità, un'esco qua, paga 1000 euro, passi, via! E con meglio, gli ho dato 2.000 euro per 2 volte! Ah, c'è pure la madre! È un posto meraviglioso, detto seriamente, non da milanese, è un posto meraviglioso! Altrimenti milanese, ma guardate questo posto qua, veramente terribile! Non c'è neanche un po' di palude, non so come si mandava avanti, un po' di puzza di gara, un po' di industrializzazione, un po' di scatrame, dai, mettiamoci un asfaltato, via dai! Amore, ben arrivato sulla lingua di sabbia, guarda che bella questa lingua di sabbia! Ok, a polizia, a fotografare, a negare! Bebbero! Gambo! Bebbero! Inch helps head! Barco! Rai il��고! Frecchio! Rai il Grazie a tutti.